Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video con i Tigers Io sono Rollo K2 E io sono Matti Ten Oggi è la giornata al contrario Siamo di nuovo su Vampire Nello scorso episodio abbiamo scoperto che in realtà Ha stato il dottore Edgar a Intestare il sangue di Lady Ashbury su Harriet Jones Così da creare l'infestazione di Miss Gun E adesso dobbiamo parlare con Harriet Jones Che sta dipingendo nella figlia Quella buona fortuna dà il tuo bambino, Jonathan Ok Eh, non c'è il giusto Alla vecchiaia Cosa c'è il tuo? 5% Tante brutte notizie Edgar Swansea era responsabile per l'epidemia di skull Elizabeth Era il giusto Cosa vuol dire non prestare attenzialmente? Ha causato un'epidemia di vampiri malati brutti che sputano l'acido? Non prestava attenzionare alla deontologia Edgars' behavior Edgars' behavior was beyond lunacy He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments I must say I'm shocked Jonathan Who would have thwarted? And the poor patient Let me guess Harriet Jones Yes That explains how Doris Fletcher was infected Faccio schifate che c'ha Insomma che ha visto un ragno Si si, 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 si 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 Sano Si Si Quelle Si 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 As Si 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 Eh già, affacca Calma Calma Che succede? No, no, Elizabeth Elizabeth, per favore Sparita E mi dico che sei qua Perché sono una f***a scimmia Elizabeth, tu cazzo Ah, non avevi ancora parlato No, perché sono entrato e ho subito parlato con Elizabeth Ok, Elizabeth, se ne è andata Cos'è che dobbiamo fare? Allora, aspetta, aspetta Ottenevo una voce del sangue di William Marshall da Lord of the Grave Direi tu da McCallum e di Nissudina Abbiamo tre di Y, io andrei in club Ah, le procuro io, facciamo veloce In pratica dobbiamo andare da quello che ci ha bandito dal clan Mascalone che ci vuole uccidere Da quello che abbiamo combattuto nello stesso episodio e al Pembroke Hospital Perché? Perché se no non possiamo salvare il mondo Allora, non potete capire quanto tempo ci ho messo a recuperare gli ingredienti Sono morto tre volte Ho dovuto aspettare i caricamenti lunghissimi Ma ce l'abbiamo fatta alla fine Ho creato l'antidoto per proteggerci E abbiamo detto, dai Dai, dai, gli Scall delle Fogne per Uccidere definitivamente la vecchia Si, mi sa che sono stato ucciso con le croci Non lo so, non mi interessa Vai, per favore Si, per dire che aveva vinta l'affannato Questo era il territorio degli Scall delle Fogne Dove c'erano gli Scall, se c'erano? Si E adesso non ci sono più Ovviamente Ah, sono morti Gli Scall sono morti Quelli che una volta Non c'è più nessuno E che cazzo c'erano? E per ricercare a Ariet Ariel No, devi andare dall'altra parte Dove? Ariel dove sei? L'ultima volta lei si trovava in quella stanza In quella stanza In la stanza di qua, quella lì Sai che è ancora qua Ma Infatti Non è più qua Dele tracce col sangue Sangue Ma io Questa qui Quella madò Ha fatto proprio una strage Qui è morta anche il vecchio Bridget Ragazzi Ed è più là E poi Ha sfondato una parete Qua non c'è aprirà una parete Dove stiamo andando? Oh, faccio un punto di domanda? Si Lì 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 Ed è ancora una cosa che posso trovare? Che fatti? Secondo me no Mi sa che è morta anche lei Speriamo Povera Ma cosa povera è lei che ha creato gli Scall no è edgar che vecchia brigida era la tipa che abbiamo dove siamo acquedotto oddio perché fa così? ah il nostro occhiatore ma non siamo mai stati qui noi o non si poteva mai dire cosa vuoi parla però e devi andare avanti ah ok dimmelo bello mi piace ma non siamo mai stati in questo posto questi sono gli effetti della droga ciao amico cosa ci vuoi dire? ho conto sei bello ciao che cosa ci vuoi? me ne vado no non ti te ne impedisce la tua barrile invisibile perché? perché? visto? non sono pronto lori sai che sarà peggiorata e rinforzata e beh per forza con i canti oscuri si questo parla come si può su un canta storie in effetti sono tanti oscuri ma noi lo facciamo perché vogliamo finire sto gioco io sono qui per fermare harry jones io sono qui per stoppare harry jones lei è l'organizzatore originale il well dal quale questa corruzione flotta citazioni di surgery ah per una volta ci qualcuno l'ha? no oh dio l'odifon non esiste più perché vuol dire che è successo qualcosa di terribile che l'ha arrivata una bestia no io non si parla ma ho le labbra voglio solo fermare questa epidemia ah perché dobbiamo guardare lui? perché è fico ma che dice può baciare? nooo ah poi si avvicina unghie che posso via posso avvicinare ma mi lascia andare a sconfiggere il cartò quello che poi ci rendiamo ah beh ah no non sono qui un paladino stai oh no oddio un fantasma ah non parlo oddia ah è proprio un fantasma che mi ha trascinato oh mio dio la schiena ho già manco tagliato oh mio dio grazie grazie addio ok ha detto che non dobbiamo sconfiggerla va bene ciao l'ha detto lui va di va di retro satana un altro corpo altri corpi dove dobbiamo andare di qua o di là? qua è chiuso e lì dove vai? proviamo a vedere magari è aperto e non è chiuso no aspetta qua c'è dove sei? non lo so ah e dove boh e tipo che però rientra un cartellone della pizza grazie per questi cellini ormai non serviamo più donna del entra ah ritorno entra 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 se magari è qua devi seguire i cadaveri oh no se già cominciamo così che mi spavento proprio una scatola a rotta oh oh c'era da servare ok boss finale finalmente vuoi mordere il tuo ultimo topo? vai non dirlo a me dovrò ucciderlo io dove so? oddio no ti prego non farai guardare giù non guardare giù oddio no anche lei in braccio rosso metta le mano te le figlia per favore lo fai tu io ho la sensazione qua un momento se vede un momento poi mi andavo a vittare anche là va bene che schifo che schifo che schifo che schifo mi andavo a vittare mi andavo a vittare mi andavo a vittare mi andavo a vittare come tu ti iagri ci sono tanti volte di sempre guarda come è il peggio ancora di prima ti preferisimo prima? quando è l'armato eeeh cibo mi t'aconto che è l'acido cos'è? è l'antidoto ah è il disastro si chiama ok e beh ovviamente prima devo dire che era molto più bello vai vai aspetta che ho sbagliato una cosa metti la pistola più forte di aria mi sono equipaggiato il il cosa sbagliato dovevo mettere questo ok picchiala picchiala eeeh l'ho fatto tantissimo io così no ma mi dubito si una mother fucker eri morte 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 si è morta oggi che esplode non sai che esplode pur ca boia che esplode che succede? beh oh la regina ah la regina rossa e chi è la regina rossa? eeeh gli dice è la madre del nostro creatore doveva incidere a lei anche si perchè era la profezia lei voleva risvegliare la regina rossa e c'era riuscita non ha la parata di voi non posso prendere il sangue da lei eeeh va bene non gli faccio niente usa la pistola da forno ma dai ma che roba cosa fa? cosa fa? vuole ballare fai la madre nooo grazie cosa ha detto? di nutrirla ma anche no poi non è la parata dato che ormai non ci serve più prendi quella che fa più danno ha creato gli scagnozzi i cammini sono piccoli ma faccio prima che ti attacca a lei da dietro infatti aspetta che hai evitato di prendere l'altra arma è la pistola più forte che è quella è quella o più danno si no 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 che vuoi fa? si ma noi combattiamo e lei balla cosa ha? cosa ha? cosa ha? cosa ha? basta creare i giochi iiii no 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 l'ha schivato l'ha schivato l'ha schivato maledetta quale? eeeh l'attacco forte si vai vai oh è meno un po' di mani che ho fatto aia 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 che schifo ma questa è una cozza di ciclo si una bagno di sangue nel vero senso guardate questa usa anche le lancia cozza di ciclo infinita che fa? cosa fa? cos'è la seconda? cos'ha? ha le spalle è bella mi piace portare in gira queste due spade non ho fatto eeeh che sto facendo? no 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 oh oh sei calma eh sono stato fortissimo non è ancora morta però eh? che succede? che su? mirdin si chiama mirdin Oh, guarda Siamo assistino a Diano con madre e figlia Siamo a Mirdy il nostro cattore Che bello No, basta E Valentina che ha bisogno di aiuto Hai detto ho bisogno di aiuto Hai saputo che cacchio c'ho Ma va a fa... Vedi? Ha la faccia No, vai Evviva vecchio boniget No, basta, basta, basta Evviva vecchio boniget Delattiva della sfida Ma sono tutti massacrati Per la monstrosità che ha diventato L'altro arriveranno Ingeniati da vampiri Non mi chiedo di te, ovviamente Oh Oh I thought you'd been slaughtered With all the other suicides I was up above In search of help When Harriet suddenly turned into that thing I had no idea what it was It's over now London is no longer shrouded in the disaster's shadow We're all safe Yes Yes You prevailed in the end Blocca, ma cos'è? Red like hate Red like hunger Red like hunger Red as life and death Passero Il rosso è il colore pinto tanto in questo gioco E' il nero E' il nero E' il nero Guarda come Come siamo belli In versione fumetto And old grudges And old grudges And old grudges Where we always L'hormen Mortals Immortals Are like The next disaster Is only a matter of time My only phone now C'è me la macchina Ma che siamo Unita con Oddio Come sarà successo Scopriremo la verità nel prossimo episodio Quindi iscrivetevi Lasciate like Perché noi ci rivedremo